Vi volevo far vedere dov'è Cimma Bianca. Cimma Bianca è questa qua. Quando salite dai sentieri guardate sempre avanti ai vostri piedi perché qua sotto basta niente mettete un piede in fallo e cadete e morite. Questi qui sono i sentieri bianchi e rossi sono sentieri diciamo turistici troppo arriveremo ai sentieri quelli bianchi e blu e lì iniziano i sentieri alpini quali bisogna fare attenzione a manetta. Io sto iniziando a parlare poco perché qui sotto in me c'è uno strapiombo non indifferente e ho paura non è bello però mi sento sicuro ho paura davvero paura mi sento bloccato qua e ho paura